Allora, questa mattina abbiamo inaugurato questa statua della Madonnina, stata offerta dalla popolazione di Adami ed è stata organizzata questa manifestazione per inaugurarla. Padre Benedetto mi ha chiesto se potevo intervenire per scoprire la Madonnina, quindi siamo qua per questo motivo. Padre Benedetto gestisce la parrocchia di Adami ed ha organizzato tutta la manifestazione, coordina tutte le attività religiose, pastorali della parrocchia di Adami, della chiesa di Adami, perché poi la parrocchia di Adami fa parte della parrocchia di San Bernardo e la parrocchia di San Bernardo e Madonna del Carmine. Stiamo cercando di mantenere la stessa attenzione sia per le zone periferiche che per le zone centrali del paese e infatti siamo intervenuti già con una serie di pulizie delle strade e con il ripristino di tutta la viabilità. Molti pozzetti, molte grade che erano state tralasciate ed erano state ormai degenerate, c'erano malmesse, sono state ripristinate tutte. Anche la strada che sale al borgo è stata ripulita per dare un senso di comunità, di inclusione anche per le zone più periferiche. Grazie per la visione!